Alla ventesima edizione dell'ATP Challenger di Cordenance abbiamo il piacere di avere qui con noi la testa di serie numero 4 Matteo Gigante. Ciao a tutti, innanzitutto è stata la mia prima volta qui, quindi alla ventesima edizione è sicuramente un orgoglio per il torneo, per tutta l'organizzazione, quindi sono contento di essere ai quarti per ora e spero di andare il più antico possibile. Raccontaci un po' questa partita di oggi contro lo sloveno Blazrola, un primo set che vi ha visti veramente sul filo dell'equilibrio fino all'undicesimo game e poi invece nel secondo la partita è andata abbastanza via liscia. Ho visto a mio avviso una grande prestazione nelle percentuali di punti vinti sia con la prima che con la seconda. Sì, oggi è stata sicuramente una partita dura perché l'avversario ha comunque tanta esperienza, poi è sempre difficile giocare contro i mancini, quindi sono stato sereno. Poi potevo chiudere anche 6-4 prima però ho preso quel break ma l'importante è che sono stato calmo, l'ho rifatto subito dopo e poi ho chiuso 7-5 e poi il secondo set ho giocato veramente bene. Domani nei quarti di finale avrai l'argentino Hector Casanova che oggi ha sconfitto Federico Iannaccone, che tipo di partita sarà e se vi siete già incontrati in qualche torneo? No, non ci ho mai giocato però sarà sicuramente una partita totalmente diversa da questa perché l'avversario di oggi era un po' servizio e dritto, domani invece ci saranno molti più scambi, quindi domani sarà un po' più di lotta, però a me piace stare nella lotta e quindi non vedo l'ora di giocare domani. Tu quest'anno hai raggiunto dei risultati fantastici, hai vinto a Tenerife tra l'altro da Lucky Loser che credo sia una cosa molto particolare, finale all'Arbour a Milano e poi i quarti di finale appunto a Zadar e Zugo in Svizzera poche settimane fa, insomma direi un'annata molto buona. Poi aggiungerei anche Roland Garros e Wimbledon, quindi un anno pieno di grandi cose, quindi sono contentissimo. Adesso sei attorno alla posizione 202 del ranking ATP, il tuo best al momento è 192, su cosa stai lavorando per crescere ulteriormente e andare ad ambire in quelle posizioni che assolutamente il tuo tennis possono valere? Sto lavorando sulla testa, sulla mentalità e poi sulla continuità che è la base di questo sport perché se non sei continuo non riesci mai a salire di declassifica per esempio, quindi testa e continuità. Un'esigena italiana che vede Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Luca Nardi, Zeppieri, Flavio Cobolli, maestrelli, insomma direi che siete veramente una nidiata molto molto interessante, spiegaci un po', forse vi stimolate anche uno con l'altro o sbaglio? Ma certo, quello sicuramente, poi bisogna ringraziare sempre la federazione perché ci ha aiutato tantissimo in questi anni e lo sta facendo ancora, quindi è normale che se è fatto bene tutto anche i risultati arrivano, quindi è tutto un movimento che sta andando alla grande. Sappiamo insomma che il tuo idolo è Fabio Fognini, ma non è solo il tuo idolo, so che c'è insomma anche qualcos'altro con Fabio in ballo se non ricordo male. Beh, è il mio diciamo manager, ha creato lui l'agenzia dove sto, quindi sono contentissimo che lui abbia scelto me e quindi sono grato a lui perché da quando sono piccolo l'ho visto sempre giocare in televisione e mi ha fatto anche un po' un certo effetto vederlo, cioè stargli vicino ai tornei, anche andare a cena con lui, quindi sono veramente contento. Ringraziamo Matteo Gigante. Grazie a voi, ci vediamo domani. E vi diamo l'appuntamento ad altre interviste qui dal Challenger di Cordenons.